Ultimamente per l'ansia di fare il gesto così, che è una cosa che bisognerebbe prendere le mani, le dite e metterle, la gente non le usa più come ci sarebbe tra virgolette, invece viene usato a cazzo così, c'è un discorso normale, oggi prendo l'auto, poi dopo vado in centro e poi dopo quando vado in centro incontro una mia amica, cioè così, cazzo, quando gli viene in mente fanno così, non è che dicono sono andato in un posto, parentesi, era un posto molto figo, no, così a cavolo, oggi mi sono lavato i denti, poi dopo ho fatto colazione, dopo la colazione ho fatto un'altra piccola merenda, poi sono andato a fare la spesa e dopo aver fatto la spesa sono tornato a casa, ho preso la macchina, cioè compulsivo, c'è una roba così, ogni tanto zic zic fanno il gestino così, ma sapete dove bisognerebbe metterle queste ditine prendendole una a una? Lo lascio immaginare a voi, perché non è corretto che io lo dica, perché sennò si sente uno smeriglio pazzesco.